Siamo collegati con Giampiero Riva, che sarà l'ospite della nostra serata di San Costanzo Fotografia del 15 di novembre. Saluto Giampiero e gli chiedo di presentarsi e di presentare quelli che saranno l'argomento della serata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come mi presento? Sono un appassionato, mi posso definire adesso dopo un certo percorso che ho fatto, un appassionato di mobile photography, cioè di fotografia in generale, che però dopo cerco di fare al meglio con il mio smartphone. Chi si avvicina a questo, diciamo, universo della mobile photography scopre che ci sono delle belle sorprese, insomma si possono fare delle belle cose con lo smartphone. Quindi parleremo di come scattare, elaborare e condividere le foto con lo smartphone. Bene, ringrazio Giampiero e vi invitiamo alla serata del 15 di novembre a San Costanzo, nella biblioteca di Palazzo Cassi. Un saluto a tutti. Ok, ciao. Ciao.